Beppe Sannino dovrebbe essere il nuovo allenatore della Nocerina. Il navigato tecnico di Ottaviano avrebbe raggiunto un accordo con il direttore sportivo del club Molosso Ciro Raimondo e con la proprietà italo-americana. Dopo l'esonero di Cavallaro e la scelta di un allenatore traghettatore che è Agostino Spica, la società non ha perso tempo. Nella giornata di ieri si era fatto il nome di Gianluca Esposito, ex difensore proprio della Nocerina che sta vincendo il campionato di Serie D con la casacca del Gelbison. Un evento storico a Vallo della Lucania, quello della promozione tra i professionisti che Esposito sta riuscendo ad ottenere grazie ad un gioco brillante ed innovativo. Già dal pomeriggio di ieri però c'è stato poi il tam-tam di voci su Giuseppe Sannino. Sarà lui ad abbracciare il nuovo corso americano della Nocerina, una scelta mirata a quanto pare già da tempo. Si stava cercando di convincere l'ex tecnico del Siena ad accettare il progetto rosso-nero. Il 65enne di Ottaviano dovrebbe essere della Nocerina sia per un eventuale approdo in Serie C attraverso play-off e ripescaggio ma anche per una ripartenza ancora tra i dilettanti. Si tratta di un tecnico di altissimo valore che ha raggiunto a Varese risultati straordinari, confermandosi poi in altre piazze, tra cui Siena. Esperienze anche all'estero, per Sannino in Grecia soprattutto. Adesso la voglia di tornare vicino casa e cercare di vincere con i colori rosso-neri. Nocerina che giocherà il prossimo match dopo la debacle di Matino contro l'Altamura. La dirigenza si aspetta subito una reazione. Finito invece il campionato di Serie C si attendono le partite degli spareggi. La Paganese si sta preparando per la doppia sfida con l'Andria. Gare fissate il 7 e 14 maggio. Partite assolutamente non semplici ma il tecnico Lello di Napoli conta di riuscire nell'impresa soprattutto perché dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa.